Gabriele Calista, da pochi giorni campione europeo 2015 di powerlifting, da città Sant'Angelo a Riga in Lettonia per la conquista di un titolo davvero prestigioso. Sì, è stato un anno davvero duro per la preparazione di questa gara. Diciamo che già a livello nazionale ho conquistato due argenti e tre bronzi. L'anno scorso sono riuscito a conquistare l'oro a San Pietroburgo nella Coppa Eurasia, però di fatto questo è il primo europeo puro, europeo open, che ho vinto. Quindi ho riportato l'oro anche quest'anno. Vediamo la medaglia qui. Eccola qui, eccola qui. Questa Wacky me la tocca. Sono riuscito anche a realizzare nella disciplina dello stacco da terra, perché il powerlifting si compone di tre discipline, lo squat, la panca e lo stacco da terra. E nello stacco da terra sono riuscito anche a battere il record mondiale per la mia categoria, sollevando 331 kg. Volevo approfittare e ringraziare Antonello del giorno e la notte, che mi ha dato la possibilità di partecipare a questa gara, perché, come hai detto già, si è svolta a riga e ci sono state un po' di spese da affrontare, però grazie ad Antonello li siamo riusciti e li siamo riusciti anche vittoriosi. Gabriele Calista, campione europeo, guarda al futuro. Quali i tuoi prossimi impegni? I prossimi impegni? Ora, se riusciamo ad organizzarci, questa vittoria mi ha qualificato automaticamente mondiale in Portogallo. La data è ancora da decidere. Ecco, puntiamo al mondiale se tutto va bene.